Siamo partiti tutti, tutti anzi con entusiasmo, visto che per due mesi abbiamo sofferto e non solo. Purtroppo noi abbiamo dei materiali che è deperibile e non tiene il tempo, quindi quello che va bisogna buttarlo. Il materiale ne è stato buttato tanto, quindi tutti molto molto volentieri sono ripartiti, con molto entusiasmo e molta voglia, nonostante i sacrifici che dobbiamo fare. Io penso che grosso modo se non riusciamo a raggiungere la stessa gente dell'ultima volta che siamo venuti ci andremo molto molto vicino. Noi siamo molto contenti della risposta, nonostante sia la prima volta e che la pubblicità che siamo riusciti a fare è stata limitata, però tra passaparoli, mail e telefonate con clienti che ormai sono affezionatissimi a noi siamo riusciti ad avere un buon risultato.